Potrebbe risolversi in una bolla di sapone il processo a carico di Dominic Strauss-Kahn, imputato per sfruttamento aggravato della prostituzione. All'indomani della richiesta di proscioglimento puro e semplice del pubblico ministero di Lille, la parola è passata alla difesa per l'ultima ringa. Uno dei legali dell'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale rompe il silenzio, fiducioso di ottenere una soluzione completa. Il caso collassa su se stesso. Le nostre argomentazioni hanno solamente dimostrato questo. Aspettiamo ora la decisione del Tribunale, ma siamo ottimisti. La sentenza del Tribunale di Lille è attesa questo venerdì. Insieme a Dominic Strauss-Kahn alla sbarra ci sono altre 13 persone, tra imprenditori, avvocati e poliziotti. Tutti coinvolti a vario titolo nel giro di festini a luci rosse, soprattutto al Carlton Hotel di Lille.